buongiorno a tutti ragazzi buon lunedì buon inizio di settimana allora breve video per prepararvi la nuova settimana abbiamo detto che abbandoniamo purtroppo non ci ha pagato il genova napoli ovviamente noi non inseguiamo previsioni che tardano ad uscire e siamo forse gli unici che ci mettiamo anche la faccia e vi ho preparato la nuova previsione mi raccomando la previsione che abbiamo dato in diretta tv con valentina ovviamente quella non c'è bisogno quella si continua l'ultima volta avete visto è uscita una bella quaterna secca perciò continuatela mi raccomando dopo ve la faccio anche vedere allora questa è la nuova previsione ruota unica cagliari 90 90 e 32 e poi questa volta ho voluto diciamo un po esagerare visto che giochiamo su una ruota ho messo due terzine chissà magari anziché far fare la quaterna stavolta facciamo fare il terno visto che il genova napoli non ci ha pagato magari cagliari ci regala qualcosina di più questa è la previsione ho messo le due terzine vi ho detto che questa è una giocata che con 6 7 euro si può giocare d'altronde giocate per voi e non dovete giocare per me la differenza è semplicemente questa che quando giocate e quando vincete vincete per voi ma non per me come fanno tanti altri predicatori di lotto allora quadro estrazionale per gli amanti dei giochini 33 73 53 avete visto cosa ha prodotto quel 37 57 47 al primo colpo 57 47 adesso c'è questo giochino 33 73 53 ieri sera è sortito solo 33 però ovviamente si continua si continua poi qualcuno mi ha detto maurizio e visto su bari caia di firenze 1 41 11 stessa cosa ragazzi un giochino che vi ho regalato e potete tranquillamente tranquillamente provare questi sono giochini che vi ho regalato su youtube e che quando ci si presenta la condizione chi vuole può anche metterli in gioco eccola qui abbiamo ancora il nostro ambo unico su venezia nazionale e abbiamo la previsione col 59 si può ancora acquistare perché ragazzi ovviamente ha diciamo pagato in parte pagato in parte ma aspetto lambo secco di questa previsione perciò mi raccomando col 59 è qualcosa di spettacolare ci regalerà una bella vincita ragazzi col 59 ci regalerà una bella vincita perché in due quadri estrazionali si è verificata la stessa condizione perciò quando fa così paga lambo secco perciò attenzione a chi ha acquistato la condizione col 59 o chi vorrà acquistarla perché per me è una delle previsioni più forti che in questo momento abbiamo eccolo qui vi ricordo per tutti quelli che si vogliono abbonare insieme a noi c'è la promozione del primo marzo basta mandare un messaggio su whatsapp e vi mando l'informativa ragazzi mi raccomando continuiamo continuiamo è un primo colpo ci credo molto in questa previsione l'importante è che il 90 si gioca nelle due posizioni avete preso in massa il 90 in quinta posizione al primo colpo vedete c'è la previsione che non ci paga poi c'è la previsione che ci paga a colpo e questo il gioco del lotto il gioco apposto e si chiama gioco apposta vedete torino 90 in quarta e quinta posizione uscito puntualmente poi c'è anche la previsione che purtroppo non ci paga però ripeto siamo sempre qua a dirvi le cose come stanno va bene vi rifaccio vedere la previsione eccola qui per tutti quelli che vogliono entrare nel nostro gruppo telegram gratuitamente per giocare al 10 e l'otto possono contattare o me o direttamente valentina con la ceci ok possono contattare valentina gruppo telegram per giocare al 10 e l'otto gratis ieri quasi 600 euro di vincite nonostante fosse domenica abbiamo fatto giocare perciò chi vuole può entrare gratuitamente nel nostro gruppo telegram per giocare al 10 e l'otto gratuitamente ragazzi dal capitano è tutto ci vediamo al prossimo video un grosso besos ciao